Noi siamo venuti a Gioia Tavolo per lanciare un ulteriore allarme rosso perché la politica del PD sta devastando la nostra città metropolitana. Il primo responsabile è Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria, sindaco della città metropolitana. Poi Oliverio, tutti i deputati del PD che non hanno fatto nulla rispetto a una nomina di un genovese che ovviamente è qua per interessi privati dell'MSC e soprattutto per dare corso alla devastazione finale del porto di Gioia Tavolo. Perché? E' come dire, facendo un esempio conosciuto da tutti, è come dare la presidenza dell'Avis a Dracula. Quindi noi abbiamo dato, il governo ha dato la presidenza dell'autorità portuale importantissima, più grande in Italia che l'autorità dello stretto a un genovese che peraltro è avvocato dell'MSC. Quindi ha tutte le caratteristiche più importanti per distruggere in un colpo solo l'autorità. L'altro elemento è che mentre i deputati di Messina combattono per scorporare le due autorità portuali, cioè staccare quella di Messina da quella di Gioia Tavolo e c'è riuscito Carofalo per sei mesi, che è deputato dell'NCD di Messina, i nostri deputati non ci sono atti concreti della loro opposizione a questa politica che inizialmente è temporanea di scollamento dell'autorità di Messina a quella di Gioia Tavolo. Certamente diventerà uno scollamento definitivo. Questo ucciderà il porto di Gioia Tavolo e lo renderà inservibile. Noi siamo contro questo tipo di politica del PD che ha ucciso l'aeroporto e non l'abbiamo detto due anni fa e sta uccidendo definitivamente il porto di Gioia Tavolo. Fratelli d'Italia dice no a questa politica e faremo azioni forti come l'abbiamo fatto per l'aeroporto, faremo azioni forti per difendere il nostro territorio.